bene ciao ragazzi oggi proviamo un altro mostro forse anche troppo pericolosa bene partiamo con la bici spenta e vediamo che la latta è liberissima a tour già ci si può rilassare anche le salite piuttosto sempre in tour veramente vado a per tutto adesso proviamo la differenza tour e mtb più spingiamo e più ci da il motore qui ce la facciamo tutta a manetta vediamo come va ed eccola qua finita la salita la bici è una bomba reattivissima pedalata impressionante probabilmente data dalla nuova cinematica dello zero suspension di mondraker batteria non è possibile cambiarla quindi integrata da 625 xt 12 dt 1501 direi che la bici è spaziale factory fit 4 160 x factory da 150 per il posteriore veniva montata con gli shimano xt quindi non un brutto freno però ancora li usiamo sempre o quasi adesso andiamo a provarla in discesa facciamo calma che qui sono 10.000 euro e non è la mia bella bella vale di pensare solo un po' di sporcizia lato dal vento di stanotte andrà qui ma prima quando smettete di punturare il motore si sente che dura un pochettino nooo gran mezzo stiamo attenti stiamo attenti anche la stiamo attenti la moto non mi lasci, sono i rami forse è anche troppo pericolosa impressionante ciao ragazzi 12 febbraio 20 gradi straordinarie giornate abbiamo provato la la Mondra RR Carbon la Crafty allora impressionante la sicurezza che dà la bicicletta è fuori da ogni da ogni concezione mai provata una bici che ti dà una sicurezza del genere parliamo di 150 ad escursione al posteriore che sembra che lavori come un 180 tranquillamente con un ammortizzatore che non è nemmeno un ammortizzatorone da enduro è veramente impressionante il nuovo carro la nuova cinematica di Mondraker secondo me ha fatto un passo avanti gigantesco la bici è facilissima da guidare il problema è che è un po' pericolosa la situazione perché si va forte oggi abbiamo provato su un percorso che era distrutto completamente dal vento quindi alberi, rami, destra quindi non abbiamo potuto provare realmente la potenzialità della bici probabilmente non ne sarei neanche in grado ma mi ha stupito la familiarità che ti dà da subito e la reattività della bicicletta farla entrare in curva e fargli seguire la linea rimane facilissimo è un 29 quindi passa tutto è una Mondraker quindi passa tutto è un vero e proprio schiaccia sass il motore Bosch con la batteria da 625 integrata in quel modo quindi non è possibile avere la seconda batteria di scorta secondo me basta e avanza per fare qualsiasi cosa per me si va tranquillamente sopra i 2000 metri di dislivello e sui giri d'enduro si possono fare penso quasi tutte le gare di e-enduro con proprio tranquillità è una bici puntata sul peso che si sente mentre si pedala la. Pogliono la fanno in tre versioni una la R Carbon che è la base ha 8000 e... spiccioli una e questo che la RR Carbon che secondo me è la più idonea per fare un discorso enduro poi c'è la SL che lì è realmente montata per andare sotto di peso quindi ci sono due versioni batteria da 500 o da 6,25 però è montata con roba che non mi azzarderei a usare in montagna quindi più roba da cross country e non l'ho mai presa in considerazione la RR questa che abbiamo provato oggi costa 10.000 euro e la SL 12.500 euro quindi prezzi ormai siamo arrivati a cifre da utilitaria oppure una bella BMW usata si fa tranquillamente ciao alla prossima